Senza sicurezza non c'è libertà e questo è lo slogan del Security Day promosso a livello nazionale da Forza Italia e che adesso arriva anche ad Arezzo. Consiste soprattutto nel ristabilire quelle che erano le nostre proposte già realizzate, i rapporti soprattutto con la Libia e con tutti i paesi del Nord Africa per evitare questo flusso sia assolutamente ormai inarrestabile. Soprattutto anche proposte concrete su quelle che sono anche le espulsioni dal nostro paese e soprattutto anche ancora di più la necessità che ci sia un rafforzamento delle forze dell'ordine che non sia solo di facciata ma che sia anche attraverso quello che noi avevamo già detto di poter fare cioè la sorveglianza di quartiere. Non è possibile pensare che per esempio una città come Arezzo possa rispondere di tutti i problemi della sicurezza solo con l'intervento del comune e del sindaco e vogliamo anche più potere al sindaco e alle amministrazioni comunali per poter agire sul comparto della sicurezza. Sono proposte concrete che si possono fare rapidamente che noi avevamo cominciato a realizzare, alcune sicuramente come quelle con i rapporti con il Nord Africa che questo governo non è in grado di porre in essere e poi i poteri sindaci e la sorveglianza di quartiere diventa fondamentale. Sabato 11 marzo al mercato di Viagiotto alle 8.30 e poi in corso Italia dalle 15.30 Forza Italia incontrerà i cittadini per illustrare le proposte che a livello nazionale il partito e gruppi parlamentari hanno presentato nei giorni scorsi ovviamente in tema di sicurezza. Le richieste di Arezzo praticamente unitamente al progetto che sta per partire nel comune di Arezzo che vede in prima persona impegnato il sindaco che ha istituito anche un pull apposito che si ripercuoterà praticamente su tutto il territorio.